Con la prima intervista di oggi torna il consueto approfondimento sull'andamento del mercato automobilistico in Italia. Direttamente dalla sede del quotidiano del giornale in compagnia del nostro opinionista Pierluigi Bonora. Buonasera Pierluigi. Buonasera Alessio e buonasera a chi ci segue da casa. Con Pierluigi come sempre andiamo ad analizzare l'andamento economico del mercato automobilistico in Italia. Pierluigi siamo a uno spartiacque importante, mancano due mesi alla fine dell'anno e proprio pochi giorni fa sono stati dichiarati i dati ufficiali del mese di ottobre per quanto riguarda le vendite ovviamente sul nostro territorio. Come sempre numeri purtroppo negativi, il trend è addirittura ancora più in ribasso rispetto a quello del 2012. Facciamo un attimo il punto. Va malissimo, meno 5,9 se non sbaglio è il dato diffuso dal Ministero dei Trasporti, dalla Motorizzazione Civile e poi elaborato e rielaborato delle associazioni di categoria Anfia e Unrae e cosa c'è da dire? Che l'Italia continua ad essere la cenerentola europea. Negli altri paesi si nota un risveglio, se così possiamo intendere, del mercato dell'automobile, in Italia è sempre profondo rosso. Il gruppo Fiat ha denunciato ancora un risultato negativo in Italia. Le case si lamentano ma i risultati non ci sono, non so cosa dire. Ci aspetta un 2014 ancora molto molto triste. Ecco, però in questo momento così difficile c'è qualche casa che sorride? Mi riferisco forse alle realtà coreane, Hyundai, Kia soprattutto. Sì, io penso che lasciando perdere un attimo le marche, perché ce ne sono tante, il Premium per esempio, penso che a pagare sia sempre la novità, il prodotto. Più prodotti sforni, più dai segnali di vita in questo mercato asfittico e più, per quel che si può, viene premiato dal mercato. Parliamo un attimo di strategie, le strategie ci portano a fare una considerazione. Le aziende automobilistiche stanno veramente puntando moltissimo sulle motorizzazioni alternative. Anche una casa come BMW, settore indubbiamente Premium, fresca di presentazione, lo vedremo tra l'altro nella prossima puntata di Seedrae, settimana prossima, ha appena portato i giornalisti in Olanda, ad Amsterdam, a conoscere da vicino la nuova I3. Esatto, il nuovo modello totalmente elettrico. E poi, di recente, a soli di Francoforte, la connotazione a livello ibrido è stata veramente importante. Credi che in questa direzione si andrà poi a sviluppare il mercato nei prossimi anni e soprattutto il governo potrà in Italia agevolare questo tipo di... Lo avrebbe già dovuto fare e quando lo farà, lo farà in ritardo, ma può farlo ancora. Io penso che la BMW I3, che è il Premium legato alla motorizzazione elettrica, sarà il vero banco di prova per lo sviluppo dell'elettrico, soprattutto in Italia. Ecco, soffermiamoci un attimo invece su un momento importante che sta vivendo Milano, perché proprio in questi giorni, mentre parliamo, sta andando in scena l'appuntamento fieristico dedicato alle moto, ribattezzato EICMA. Possiamo dire con fierezza che c'è almeno una fiera che in Italia in questo momento respira, respira bene e ha una caratura di livello indubbiamente internazionale. Siamo quasi a 100 anni, se non sbaglio, per il suo nome della moto di Milano, come ha sottolineato recentemente proprio Pier Francesco Cagliari, che è il direttore generale dell'organizzazione. Si può fare il salone, basta trovare la formula giusta. EICMA sta dimostrando di fare, di avere successo con questa sua formula che unisce allo spettacolo, all'esposizione, alle anteprime, all'abbigliamento, alla sicurezza. Ovviamente le due ruote sono diverse dalle quattro ruote, la formula delle due ruote non è detto che vada bene, si sposi alla meraviglia con quella delle quattro ruote. Quindi se Alfredo Gazzola, che magari ci sta vedendo adesso, che è l'ex patron del Motor Show, riuscirà veramente a organizzare il nuovo salone internazionale dell'automobile italiano, e quindi di Milano, dal 2014, sicuramente dovrà cercare una formula ad hoc per l'automobile. Senti, Pierluigi, per una fiera che funziona come quella dell'ECMA c'è anche un'iniziativa che continua a dare buoni frutti, buoni risultati, con tante adesioni. Mi riferisco, come sempre, al discorso legato all'operazione di tester per un giorno, che dà la possibilità di diventare giornalista. Questo mese, come sempre, tu accompagniamo, andiamo a eleggere il vincitore dell'edizione, che porterà la guida della nuova Honda CRV. Vettura sicuramente dalla storia importante, di tradizione. Un cavallo vincente della Honda, un SUV che c'è sul mercato da tanti anni, è stato oggetto di vari restyling, di vari rinnovamenti anche totali, e adesso si ripresenta con una veste molto accattivante, moderna, ben adatta sia al pubblico maschile che a quello femminile, ben adatta alle famiglie, con una ampia scelta anche di motorizzazioni, di accessori, un veicolo, diciamo, di sicuro impatto, e vedremo quello che scriverà poi il vincitore di questa edizione. Assolutamente. Per decretare il vincitore partiamo, come sempre, dai tre finalisti, che sono, in questa occasione, Alberto Zaglio, che è un impiegato di Brescia, Nicola Achilli, che è sempre un impiegato che viene da Pavia, e poi abbiamo Matteo Fleischner, che viene da Milano. Pierluigi, chi abbiamo scelto questa volta? Allora, il vincitore è un po' di suspense, Alberto Zaglio. Complimenti Alberto. Alberto Zaglio, classe 86, abita, come tu dicevi, in provincia di Brescia, a Dezenzano del Garda, interessi automobilismo e viaggi, brevissimo. Perché vorresti partecipare a questa sessione di Save Drive? Perché sono un grande appassionato di auto e ho un grande rispetto per la casa automobilistica Honda. Mi farebbe molto piacere a partecipare al vostro evento in qualità di tester. Ebbene, accontentato, avrai anche la possibilità di sederti a bordo di una delle auto di maggiore successo della Honda e aspetto ora di ricevere il tuo articolo. Complimenti Alberto anche da parte mia, ti aspettiamo non la prossima settimana ma tra due settimane perché la prossima puntata daremo ampio spazio al Lake, ma quindi ci sarà una settimana di attesa per vedere il tuo test drive, però puoi avrai l'opportunità di realizzare appunto un servizio televisivo in onda su Save Drive e i due articoli, uno per la rivista Automobilismo e uno per il giornale .it. Bene, grazie Alessio, grazie agli amici a casa, appuntamento alla prossima volta che mi vorrai qui in trasmissione. Assolutamente, grazie Pierluigi. Grazie. Grazie a tutti.